Noi siamo un team che è nato dal progetto TAC, Training for Automotive Companies Creation, dell'Università di Modena in Reggio Emilia. Stiamo lavorando su questo progetto da marzo del 2018 e siamo in fase di prototipazione, siamo nella fase di test e sviluppo. La nostra idea consiste nel riutilizzo dei pacchi batteria delle auto elettriche ed ibride per consentire di dare una seconda vita e allungarne la vita appunto di 22 anni. Il riutilizzo verrà fatto soprattutto in quelli che sono gli ambiti stazionari, ad esempio quello dell'impianto fotovoltaico. Ringraziamo questa opportunità che ci è stata concessa, siamo stati premiati con una menzione speciale per la categoria innovazione e ricerca tecnologica e siamo onorati di aver ricevuto questa menzione e sarà sicuramente un'opportunità per continuare a lavorare solo.